si è dato c'è di bosco eh con una decina da eravamo c'era Gattino c'era Gattino quest'anno sono andato a fare anche la a Cardiff la io volevo andare ma il 12 agosto era un casino no il 13 era me ha tirato il pacco il 26 io dico il 6 no ma io sto a Londra e qui dicevo ma non potevo tornare a Londra Pomponi lo conosci quello di Perugia lavora per l'Ansa ma io ho abitato 8 anni a Milano si vengo 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 faccio il volo apposta per Londra e tanto c'è anche lui nascendo assoluto a guidare di notte poi c'erano tutti che andavano senza secondario si poi in Inghilterra guida all'altra parte si ma io ogni autogrid ripartivo e facevo a destra quando vedevo le maggio sono ancora seduti non c'erano non c'erano no 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 questo passo un terzo passo non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano ma la camicia laggiù ora la vado a prendere è un passo